Cosa rimarrà del Giubileo della Misericordia? Dopo un anno che cosa rimane nei nostri cuori e nella nostra mente? Secondo me una parola che all'inizio non si poteva dire, non si sarebbe capita. Inclusione, capacità di vivere con il differente, capacità di vivere con la diversità. Ci possiamo comprendere, ci somigliamo, ma ci possiamo amare solo se rispettiamo le nostre differenze e questo è il grande insegnamento del Giubileo. E quindi quando il Papa ha proposto questo percorso che è durato quasi 12 mesi, un anno giustamente, un anno straordinario, il Papa ci ha proposto la capacità di scoprire l'altro, di includere l'altro nella nostra vita, in particolare il debole, lo scartato. Questo significa, secondo me, e questo sarebbe l'insegnamento fondamentale che quando ci guardiamo allo specchio dobbiamo trasformare quello specchio in una finestra per vedere oltre quella finestra l'altro.